questo è il metodo famiglia porta buttala sulla nera e vedrai come la impara subito come va Rebby? tutto bene? ti stai divertendo? guardala guardala signore e signori guardatela che va giù per la nera vediamo un po' la faccia la faccia vogliamo vedere la faccia? vieni vieni saluto a tutto il tuo pubblico com'è questa pista nera? ma è difficile? è un po' difficile? va bene andiamo giù fino in fondo? ciao 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 grazie grazie